In nomine Patris et Filii et Spiritus Santi, Amen. Laudetur Iesus Christus, Semper Laudetur. Maria Sede Sapientie, Ora Pronobis. Continua la lettura dell'opera Imitazione di Cristo, Libro I, Capo XII. Ebbene, Beneficio dell'Aversità. Ebbene, che abbiamo talvolta qualche gravezza e contrarietà, perché sovente ciò richiama l'uomo al cuore, affinché riconosca di essere in esilio e non riponga la sua speranza in alcuna cosa del mondo. Ebbene, che soffriamo talvolta contraddizioni, e che altri pensi male ed imperfettamente di noi, benché siano buoni i nostri atti e le nostre intenzioni. Queste cose giovano spesso all'umiltà, e ci preservano dalla vana gloria. Quando siamo vilipesi al di fuori dagli uomini, e non si pensa bene di noi, più sinceramente cerchiamo il Dio e ha testimonio interiore. L'uomo quindi dovrebbe stabilirsi pienamente in Dio, per non aver bisogno di cercare molte consolazioni umane. Quando un uomo di buona volontà è tribolato o tentato, o d'afflitto da cattivi pensieri, conosce maggiormente il bisogno che ha di Dio, senza il quale si accorge che non può fare nulla di bene. Allora sia trista, geme, e prega per le miserie che soffre. Allora gli duole il vivere più lungamente, e brama la morte per poter essere disciolto e stare con Cristo. Allora altresì ben salvede che in questo mondo non si può avere sicurezza perfetta, né piena pace. Laudetur Iesus Christus, semper laudetur. In nomine Patris et Filii et Spiritus Santi. Amen.